ciao a tutti i follower di trentino volley siamo in diretta con simone giannelli una sorpresa per tutti i nostri follower su instagram simone passava dalla sede di trentino volley e allora con l'occasione abbiamo chiesto visto che proprio la preparazione è ripresa solo ieri di fare un piccolo momento di saluto con tutti voi e di rispondere anche alle vostre domande speriamo che questa sorpresa live vi possa far piacere ciao simone ciao ragazzi ciao a tutti ecco risponderà alle vostre domande quelle che riusciremo a leggere meglio simone se non legate alla pallavolo perché così per l'occasione vogliamo anche parlare d'altro allora innanzitutto ti faccio una domanda io non tanto legata alla pallavolo ma le tue sensazioni tornare in palestra rimettere la maglia di trentino volley seppure solo quella di allenamento effetto ti ha fatto proprio a livello mentale sicuramente è stata una cosa un'emozione bellissima perché tornare a fare quello che più ci piace fare tanta roba quindi siamo calchi siamo contenti e non vediamo l'ora di potervi vedere tutti quanti presto al palazzetto ovviamente ne passerà ancora un po di tempo però insomma speriamo bene è un periodo dove inevitabilmente fate lavoro individuale però con l'occasione che abbiamo visto anche in qualche foto e proprio postato tu in questi giorni si fa anche gruppo qualche pizza assieme soprattutto con i nuovi si fa anche soprattutto anche il gruppo perché è una cosa fondamentale per per la pallavolo come tutti gli sport di squadra quindi bisogna imparare a conoscersi bisogna imparare a sapere chi sia di fronte quindi cosa c'è di cosa c'è di meglio di andare fuori a mangiarsi una pizza tutti insieme e chiacchierare scherzare quindi adesso si fanno queste cose qui anche tu sei un amante della pizza perché mi racconti che spesso sabato sera è pizza time la tua pizza preferita no ce ne sono tantissime ma pizza time durante la quarantena ci siamo dilettati io con la mia ragazza a fare un sacco di pizze provare un sacco di gusti adesso sinceramente che le pizzerie sono riaperte è più facile andare fuori e mangiarla fuori però di solito mi piace la pizza bianca con la base bianca poi sopra insomma un po di tutto a piacimento a piacimento se avete qualche domanda particolare non le solite legate alla pallavolo anche perché obiettivamente adesso di pallavolo possiamo parlare poco ponetecele che le leggeremo in diretta simone resterà con noi una decina di minuti ci racconti qualcosa sui film che hai visto le serie tv che hai visto in questo periodo perché so che sei un appassionato tanto bravo che tiene sempre la mascherina con te sempre ma film guardato se si ho guardato game of thrones quella mi è piaciuta un sacco è stata molto lunga perché sono otto stagioni mi sembra non so la fine che non spoiler però non mi ha fatto impazzire quella mi è piaciuta un sacco poi ho visto la casa di carte io non avevo mai visto neanche un episodio e tutti mi dicevano guarda la guarda la guarda alla fine l'ho guardata e ti dirò che è stata figa adesso spero di cioè dovrebbe uscire la quinta stagione mi pare e poi ne avevo visto un'altra che era picky blinders però mi sono fermato una ho visto vis a vis vis a vis che mi hanno detto che era bella infatti carina un po lungo all'inizio è un po pesante però come stai chiedendo ti leggo qualche domanda beh si parlava della dieta del pallavolista però ancora prima di quello il posto che ti piacerebbe visitare che si collega anche ad una domanda simile che ti veniva fatta e su idee per le vacanze riesce ad unire le due cose ai dei per le vacanze adesso ancora no anche perché preferisco stare stare qui fare allenarmi visto che c'è che c'è il tempo per la prima volta riesco a cominciare gradualmente facendo molti esercizi fisici per una sorta di preparazione quindi non ho ancora pensato bene a cosa farò penso che comunque se dovessi fare qualcosa sto qua in italia perché di cose belle qui in italia ce ne sono un sacco da vedere obiettivi futuri immagino che sia una domanda legata alla tua vita e forse alla tua carriera universitaria carriera universitaria guardate lunedì prossimo un esame e spero di riuscire spero di riuscire a dare insomma adesso sto studiando materia genetica agraria già il titolo l'esame dopo biologia quindi quelle cose di difficile però spero di farlo adesso sono ho praticamente finito il primo anno e comincio quello fatto un esame nel secondo già quindi pian piano io l'ho fatto l'università sapendo di andare con calma quindi tra tutti con tutte le cose che ci sono da fare con la pallavola non è che il tempo ce n'è però insomma per studiare studio sempre cerco di tenermi aggiornato per riuscire a dare più esami possibili poi quando mi laurerò farò una grande festa ve lo comunicheremo perché sarete tutti invitati altro che diretta instagram in quel caso faremo ci troviamo in piazza qua trento a festeggiare sempre che nel frattempo ci si possa finalmente ritrovare aveva tanto guarda ora che mi laurerò di tempo ne passerà quindi allora il momento più bello da quando sei a trento immagino non necessariamente legato alla pallavolo o anche legato alla pallavolo dunque tu sei a trento da un bel po di anni ormai si da da un bel po di anni se quando abbiamo chiesto di no pallavolo sto pensando ma ci sono stati tanti di momenti belli alla fine sono stato sono arrivato qua quando avevo tredici anni quindi ho vissuto tutta la città di trento in tutte le sue sfumature e quindi ormai la conosco quasi a memoria momenti belli mi ricordo sì ovviamente sono legati a capa lavoro la festa in piazza fiera dello scuizzo del 2015 era stata tanta roba perché era piena completamente c'è stato un entusiasmo da parte tutta la città di trento che era incredibile domande tecniche quando guardi casa di carta la guardi in italiano o in spagnolo con sotto con sottotitoli italiano italiano di solito guardo quelle le serie americane inglesi così in lingua originale qui sotto titoli in inglese così un po rispolvero il mio grandissimo inglese però la casa di carta preferivo guardarmi in italiano e va bene così sembra spagnolo spagnolo proprio non lo mastico dove ti rilassi al momento che si rilassi quindi senza stress altre domande qual è la città preferita in europa mi piace viaggiare un sacco sì ci sono tante in europa di città belle io penso che già qui in italia ce ne abbiamo un sacco livelli come può essere roma firenze venezia e questo quello proprio ci sono mille comunque all'estero mi è piaciuto un sacco barcellona ma io non ho viste tante non sono mai stato a parigi quello lì devo posto qui voglio andare assolutamente ovviamente non adesso però ci voglio andare barcellona mi è piaciuto un sacco quanto è bella la tua ragazza rispondo io perché se parte in causa molto e potrà essere bella anche molto gentile brava perché tante volte con le richieste che rifacciamo noi come trentino volley ci aiuta sempre quindi rispondo io se nessuno se chi ha posto la domanda non si offende la tua pallavolista preferita concediamoci una domanda riferita la pallavolo ogni tanto la mia pallavolista si preferita una giocatrice che pallavolo femmile sinceramente non la seguo moltissimo sono sono sincero e onesto quindi dire la pallavolista preferita non saprei perché qui poi sotto ti scrivono quanto è forte la egonu a bene le guano e si è fortissima penso che faccia la differenza si vede come quanto fa la differenza sia il nazionale che nel club quindi lei è proprio un fenomeno incredibile e poi ti chiedono una domanda che era già andata in alto ma che era arrivata come hai vissuto la tua quarantena ne hai parlato spesso esercizi e tanti allenamenti anche in zoom ma soprattutto anche studio e se la regione per ricaricare la mente la mia fortuna è stata che ho con l'università non ho avuto un periodo in cui non ho fatto niente anzi ho avuto sempre uno stimolo nel senso che ho sempre un obiettivo e l'obiettivo era quello di studiare per l'esamino e poi avevo sempre fisso nella mente la pallavolo quindi comunque allenamenti li ho fatti l'alimentazione mi sono dilettato molto in cucina con selly a fare nuovi esperimenti nuove nuove ricette nuove nuovi piatti devo dire che ci sono anche riusciti abbastanza bene la maggior parte e quindi insomma il tempo l'ho passato così c'è qualcuno che chiede anche se farai un salto al big camp in monte bondone diciamo già di sì ma non specifichiamo la settimana sorpresa sorpresa lasciamo lasciamo un po di sospenso simone in realtà è un grande amico del big camp ma soprattutto è un giocatore che ha preso parte anche dal big camp in qualche anno quindi a maggior ragione è legato a doppio filo a questo tipo di esperienze sicuramente farà un salto in monte bondone anzi è bello che nonostante tutto il camp sia stato realizzato molto bello è una bellissima iniziativa che merita proprio altre domande ne sono sicuramente sfuggite sì ne ho viste un po solo che sono ok no fra mi sa che non vengo io animir che offre un appuntamento per il ristorante convenzionato oggi mi faccio una bella salatina a casa e si vola hai un rito scaramantico prima delle partite io se volete dopo vi dico un tic che ha durante prima dopo e durante le partite anche prima e dopo durante un set fotografico ma questo ve lo svelo dopo io tic riti scaramatici non ne ho nel senso che certi movimenti che faccio magari ripeto però è più per concentrarmi ascolto musica quello sì prima della partita poi dipende perché se sono già carico di mio non l'ascolto nemmeno se invece sento che ho bisogno un po di di caricarmi metto su metto su qualcosa di bello tosto per per i campi in campo carico come una bestia e il suo tic più frequente è quello di sistemarsi i capelli da sinistra verso destra fallo pure perché tanto lo fai sempre fateci caso prima tagliati anche perché prima ero ce l'ho più lunghi quindi in campo mi mano da quando sudo rimando avanti agli occhi non ci vedo niente dovrei giocare con la fascetta ecco potrei cominciare a giocare con la fascetta così emuleresti un grande tennista come roger come roger ma anche agassi credo che in passato anche agassi è vero però quella fa la fascetta lì di roger è bella e ci sto pensando non so potresti lanciare una moda esatto sg 9 sg 9 che poi nazionale diventa sg 6 ecco 9 6 ci raccontavi prima della tua passione per le biografie non necessariamente per aspetti sportivi insomma non solo di uomini di sport qual è la biografia più recente allora quella di agassi quella di agassi qui citato prima proprio mi è piaciuto un sacco perché è stata la consiglio a tutti è stato veramente un bel libro che da sportivo ti fa capire tante cose insomma io ho preso degli spunti sicuramente leggere leggere libri di grandi atleti con grandi storie alle spalle è veramente interessante perché si può sempre imparare qualcosa penso è una biografia non legata invece ad un atleta sportivo una biografia legata mi metto in difficoltà allora risponderà alla prima alla prossima diretta però evidentemente ne ha lette diverse c'è poi una domanda un ricordo qualcosa legato a bolzano che ricordiamo alla tua città natale e dove ci sono ancora i tuoi genitori tua sorella un ricordo di bolzano mi hai chiesto sì perché stavo perdendo a leggere legato viene da ridere comunque qualcosa legato sì beh sicuramente la città di bolzano la città dove sono dove sono nato e cresciuto quindi ho ricordi sempre bellissimi indelebili nella mia mente di quando quando andavo a scuola quando uscivo con i miei amici la sera insomma tutte le cose che fa un ragazzo normale quindi un sacco di bei ricordi che porterò sempre dentro di me e poi appena ho l'occasione ogni tanto vado vado su a bolzano a trovare la mia famiglia insomma c'è un posto di bolzano che ti piace particolarmente quando torni dove ti piace molto andare a fare le passeggiate sul talvera e chi è di bolzano conosce insomma quando c'è bel tempo è molto bello andare lì io vado sempre col cane quindi vado a fare le passeggiate col cane tutto quanto quindi mi piace un sacco sì allora hai provato la ricetta della torta di nonna doria ancora no mi dispiace non provate tante ma la proverò sicuramente vi vi terrò aggiornati sulla sull'esecuzione poi tutti ti chiedono la vittoria più bella ma qual è invece la sconfitta più coccente che hai con cui hai dovuto fare i conti nella tua carriera beh ce ne sono state tante ovviamente la finale olimpica contro il brasile oppure il quarto di finale forse ancora peggio i quarti finale degli europei del 2017 e quelli sono stati contro il belgio che abbiamo perso 3 0 lì non è stato proprio molto piacevole ecco poi in questo periodo dell'anno ne parlavamo a live non ancora realizzato in realtà questa diretta del live ci è venuta qualche istante prima altrimenti l'avremo anche pubblicizzata di più però ci piace anche pensarla così a spot ci parlavi della bellezza di questo periodo dove puoi allenarti senza troppa fretta su fondamentali singoli perché evidentemente tu sei un palleggiatore molto forte ma ancora adesso c'è l'opportunità di crescere tecnicamente quindi adesso senza partite vicine e tante allenamenti tecnici analitici sì infatti quella è una cosa che solitamente vi non può mancare durante i periodi intensi delle stagioni perché non si ha il tempo di stare lì a curare i dettagli individuali ma si pensa solamente andare a giocare come giusto che sia e andare a vincere mentre adesso c'è il tempo di riuscire a migliorare a fare proprio sedute tecniche individuali dove si riescono a cogliere i dettagli per poter poi migliorarli e riuscire a performare al meglio qual è il tuo motto il sacrificio paga sempre questo è quello che mi manda avanti e che penso che rispecchi quello che faccio perché se si sa che poi il sacrificio bisogna interpretarlo però comunque è qualcosa che se si lavora se si fa se si mette passione con le cose che si che si fanno sicuramente qualcosa arriverà prima o dopo e poi una domanda particolare a cui se vuoi posso aiutarti a rispondere se ti è mai capitato di fare una figura barbina lo parafraso durante un'intervista capita spesso capita spesso purtroppo adesso la tecnologia ci aiuta e quindi basta cancellarla e si rifà però capita molto spesso sia per quello che dico io sia per le domande che mi fa franz che voi non vedete al di là al di là delle mie domande però tutte le interviste che facciamo con simone a parte questa in diretta hanno l'opportunità di fare il secondo ciac quindi più delle volte è quasi più interessanti i primi ciac che non vengono rispetto a quelli che poi vedete però quando ci capita spesso quando poi a fine stagione fai il riepilogo del anche che ha iniziato anche cortesia ha iniziato molto eh sì ho visto ci sarebbero anche ci sarebbero anche 17 ciac di alessandro micheletto prima li metteremo pian piano riscaglioniamo non viene buttato via niente comunque questo è interessante altre domande franz leggi le mie domande probabilmente mi è sfuggita chiedo scusa grazie per aver risposto adesso la prima domanda che compare chiediamo a dima di riscrivere simone sei felice ecco la domanda di dima sì sono felice grazie di ma bene mi poi mi potete aggiungere in diretta no non volercene ma semplicemente perché ci stanno arrivando una quantità di richieste hai mai pensato di abbandonare la pallavolo domanda difficile no no ci sono stati ci sono dei momenti in cui è difficile però abbandonarla proprio no ci sono dei momenti in cui magari ti dà fastidio ma come come tutte le cose insomma sono solo degli alti e bassi che ci possono essere anche perché immagino che proprio in questo periodo di lockdown dove non hai potuto giocare per lungo per tanti mesi ti abbia fatto apprezzare ancora di più il gioco l'idea di gruppo certo spogliatoio soprattutto poi l'adrenalina che c'hai quando scendi in campo è tanta roba perché quella che l'agonismo quella qualcosa lì di pura adrenalina sia appunto quando sei in campo che ti fa fare quello che fai hai mai voluto fare un ruolo diverso da quello che fai ora ho fatto tutti i ruoli quindi ho visto cosa mi piace cosa non mi piace di tutti i ruoli perché ho fatto posto centrale libero schiacciatore tutti quanti palleggiatore e alla fine mi piace mi piace di più palleggiare perché quello che mi fa mi fa fare più cioè secondo me c'è più fantasia nel fare il palleggiatore quindi mi diverto proprio a sbizzarrirmi e cercare di farlo al meglio ecco poi tra le tante domande legate alla palla volo ne leggiamo un'altra che è quella riferita al modo più esaltante di ottenere un punto un tocco di seconda un muro vincente un attacco un e sul nastro allora ho sempre pensato che il modo più bello esaltante fare un punto era fare un tocco di seconda poi negli anni ho cambiato e dicevo che era il muro e negli anni ho cambiato dicevo che era la battuta forse adesso penso che il modo più bello sia quando riesce a fare una difesa in un momento incredibile in un momento importante è una difesa incredibile e in quell'azione della squadra tua riesce a fare punto allora quello penso che siamo una cosa che esalti tutti quanti come ti vedi fra vent'anni sicuramente ancora in diretta con Trentino Volley sempre in diretta con Trentino Volley con la poca barba che ho sempre è la stessa faccia hai mai odiato qualche tuo allenatore o compagno non rispondiamo perché politicamente ma se vuoi dirlo ma conoscendo Franz Segala solo ogni tanto non arrivi neanche per primo perché nella scheda di Alessandro Micheletto c'è scritto detesto quindi hai già di quanto ci metti a trovare l'intesa con il centrale io da palleggiatore ci metto un bel po' beh dipende anche dal centrale che hai da come riesci a rispettare i tempi da come tu riesci a rispettare i suoi tempi insomma ci sono un sacco di cose che bisogna valutare però non è una cosa così semplice ecco scontata hai mai pensato ad un piano B in caso non fosse andata bene con la pallavolo studio quindi mai che vada quando migliorerò ci avrò qualcosa però no non è un piano B è semplicemente un arricchire un qualcosa che che già faccio bene altre domande il ricordo più divertente in spogliatoio ce ne sono tanti spogliatoio meglio lasciarlo lì ma che è il giocatore più forte al mondo letto rispondi se vuoi ma ce ne sono veramente un sacco io l'ho già detto tante volte uno dei giocatori più forti in cui abbiamo mai giocato è Mattei Kaziski che salutiamo non ci vedranno magari glielo diranno penso di essere l'unica regione che gioca in cia a 14 anni bravo un consiglio agli schiacciatori non lamentatevi col palleggiatore mai è un disastro ti senti più vullo o tofoli nessuno di due a dire vero insomma fare paragone è sempre sbagliato penso allora erano due fenomeni quindi due persone diverse io sono un'altra persona quindi non voglio far paragoni non mi sento né uno nell'altro non per però semplicemente sono simone giannelli e basta poi domanda non legata alla pallavolo necessariamente però compagno distanza dipende nazionale o trentino vuole rispondi a tutte e due così trentino vuole ancora non lo so perché l'anno scorso con chi eri l'anno scorso ero con genia ok e nazionale osmani ok franz leggine una mia però volentieri se ce la rimetti al volo subito hai un sogno che ancora chiuso nel cassetto di soli ce ne sono tanti sì e poi di solito per scalamanzia non si sono chiusi non si possono dire ti rivedremo giocare ci auguriamo di sì ma non solo per lui ma anche per noi perché abbiamo la speranza di poter tornare a vedere pallavolo che ci manca tantissimo piatto preferito risposta già per franz un saluto da un tuo amico di chioggia bene volentieri un saluto anche a te alex come ti trovi con totò dietro le spalle che difende alla grande sono doveva cominciare a giocare però c'è già affiatamento poi partite già dall'intesa che c'era il nazionale esatto beach volley bella domanda questa ti piace molto ai col beach molto mi piace mi piace un sacco sfiancante rispetto alla pallavolo secondo me perché sei in due sotto il sole col caldo quindi è ancora più 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 tosto però mi piace un sacco come sport si poi almeno la fortuna che del beach volley che si è sempre sotto il sole ti abbronzi noi siamo sempre palestre sono tutti bianchi quasi grigi cosa provi quando ti chiamano idolo cambia un po la domanda cosa provi quando trovi di fronte a tre centinaia di persone a tenere la partita che vogliono un autografo te lo chiedo anche perché tante volte non è possibile esaudire tutti ma non è questione che non c'è la volontà ma è proprio il tempo quindi è l'occasione anche per spendere due parole riguardo sicuramente fa un sacco di piacere non riesco a collettare sempre tutti anche sui social insomma mi arrivano tanti messaggi di richieste di cose ma purtroppo non riesco a vederli tutti perché sono tantissimi ringrazio tutti e sempre fa tanto tanto piacere ecco essere essere così richiesto anche semplicemente per un saluto quindi quando possono uscire a disaudire i vostri desideri lo faccio bene ricordiamo che leggevo un paio di domande riferita quando ci sarà ripresa campionato dovrebbe riniziare a settembre non c'è ancora l'ufficialità ma è la speranza ovviamente la speranza di tutti di poter tornare prima possibile alla normalità però ovviamente si riparte con tutte le dovute precauzioni di quello che stanno facendo anche i giocatori assieme a simone in questi primi giorni e di allenamento quindi distanziamento sociale mascherine tutto in assoluta sicurezza però era importante riprendere bene noi siamo in chiusura della nostra diretta ringraziamo simone abbiamo un po barato con lui perché avevamo detto dieci minuti ma credo che ne siano andati via di più la promessa che ci ritroviamo no simone c'era per sicuramente sempre a sorpresa non diremo niente ci troviamo così dal nulla e facciamo partire una diretta per parlare tutti quanti insieme e magari durante i prossimi giorni se sarà piaciuto animir che ho visto essere uno dei partecipanti lo faremo anche con lui e con gli altri giocatori l'occasione un po alla volta per fare una chiacchierata come abbiamo fatto in questo caso molto tranquilla non necessariamente legata al pallavolo anche alla pallavolo simone un saluto a tutti ciao a tutti grazie per le domande per le risposte per i commenti per gli insulti per tutto ciao grazie ciao a tutti grazie